Ciao a tutti, io sono Mattea Cerniz e il mio atelier porta il titolo Over the Rainbow, Over the Rainbow come la nota canzone che viene cantata in tutto il mondo e che racconta di sogni e di pace, è proprio di pace e di guerra che parla il mio atelier, ho presentato ai ragazzi vari brani che incontrano il tema della guerra e della pace in modi diversi, in modo artistico, di come ne parla la Costituzione, e cosa noi vogliamo e come possiamo aiutare che ci sia la pace al mondo. La guerra è un male immenso, ora lo sa! Oggi, quest'anno 2018 si festeggia il centenario della fine della prima guerra mondiale e quindi l'atelier è stato organizzato proprio per questo. Abbiamo cantato l'articolo 11 e anche una canzone sull'arcobaleno, infatti vestiremo tutti con i colori dell'arcobaleno, che saranno il rosso, il giallo, il verde. La guerra è un male immenso, è la grande casa, che ne ha sofferto molto, ora lo sa! Sono molto felice di partecipare al Festival di Primavera di Montecatini, anche perché ci sono personalmente molto legata. Oltre al fatto di averci partecipato con lo Stadi Tour in altre occasioni, Montecatini è stato anche il primo incontro con il coro giovanile italiano nel lontano 2011. È un'esperienza che mi ha segnata per tutta la vita e non la dimenticherò mai. Ciao a tutti!